Sapete che diceva Ed Gein a proposito delle donne? Ed Gein? Il maestro del canal bar? No, il serial killer, Wisconsin, anni 50. Cosa diceva Ed? Diceva, quando vedo una bella ragazza per la strada, penso due cose. Una parte di me vuole uscirci insieme, parlare con lei, essere carino, dolce, trattarla nel modo giusto. E l'altra parte che pensava? Che effetto farebbe la sua testa su un palo? Sì!